Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale, in questo video parliamo di Antonella Ferdelisi, la ragazza dal cuore d'oro di cui abbiamo parlato nel video di ieri, che ha espresso un pensiero riguardo a una notizia che ha fatto scalpore sul web e su tutti i social. Si tratta di maltrattamento degli animali e Antonella ha spiegato la sua idea nei confronti di queste persone che attuano gesti del genere verso le anime innocenti. Antonella Ferdelisi, come sapete, è amante degli animali, tanto da aiutare e sostenere un canile di Salerno e in occasione dell'episodio in questione che vede il protagonista, un povero gattino, Antonella fa sentire la sua voce dicendo che tutto questo deve finire e che ci dovrebbero essere leggi più severe perché fino a quando la passano sempre liscia, questi episodi accadranno ancora e non ci sarà mai fine a tutto questo. Voi cosa ne pensate? Antonella si è sentita di esprimere la sua opinione. Non esitate a commentare, noi non vediamo l'ora di leggere le vostre idee e pensieri. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale se vi è piaciuto il video e di lasciare un bel like e condividerlo con i vostri amici e parenti. Grazie per averci seguito e a presto!